ciao ragazzi 31 12 2018 com'è quel proverbio chi non pesca l'ultimo dell'anno non pesca tutto l'anno o era un'altra cosa ciao ecco qua aumentiamo questo rotante anni 60 veramente molto vecchie abbiamo tolto l'ardiglione perché qua non vogliono mezza giù e proviamo ciao balanza buon anno altrettanto grazie ci vediamo sì sì ah io sono qui ci siamo con un pesciolino le nostre torote sono un po' un po' loffie allora facciamo una cosa così questa è una tecnica che uso soprattutto a bass praticamente questo fa dal galeggiante e sotto viene trascinato il mio vero buono in plastica non è un po' un po' un po' Grazie a tutti. Vediamo. E se la faceva. Bene. Adesso ho capito come pescano. Dovrei riuscirci un po' di più. Uh. Aia. Buono. Dobbiamo toccare il meno possibile. Dobbiamo rovinarla. Un gran pezzettino. Un po' di più. 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 Un po' di più.